Gli albanesi, spacciatori di alto livello, in grado di rifornire di cocaina alle piazze della Bassa, gli italiani, un calabrese e un bresciano, quest'ultimo latitante per reati legati allo spaccio, sono i quattro arrestati dai carabinieri di Abano Terme che hanno individuato in un capannone magazzino di Monselice una vera e propria officina criminale. Un'indagine partita dal territorio, dal sospetto andi rivieni attorno a questo capannone. Avviati i servizi di appostamento, i carabinieri hanno notato i due albanesi cedere al calabreso una pistola Beretta calibro 7,65. Questa pistola che era risultata compendio di un furto in abitazione, fatto quest'estate appunto in provincia di Padova, mentre i due albanesi sono soggetti di elevato calibro, di elevato spessore criminale attivi nel commercio, appunto nello spaccio di cocaina. Nel capannone sequestrati tre etti di cocaina in sasso, suddivise in quattro involucri, oltre a necessario per confezionare le dosi. La pistola invece era stata nascosta dal calabrese all'esterno del capannone, un'indagine pericolosa anche per i carabinieri. È stata condotta con metodi classici, quindi con lunghi appostamenti e con interventi rischiosi dei carabinieri che non si sono assolutamente sottratti, anzi con la loro iniziativa sono riusciti ad acquisire quegli elementi di riscontro che ci hanno portato poi agli arresti. Il quarto arrestato è un bresciano latitante, destinatario di due ordini di custodia cautelare, uno per traffico internazionale di stupefacenti e bancarotta fraudolenta.